Venerdì santo come non mai, anzi sì, come allora. Signore, nel silenzio assordante ovunque, non soltanto in piazza San Pietro, silenzio nelle nostre piazze, nelle nostre strade, silenzio nei nostri cortili, nelle nostre scuole, nelle nostre chiese, nelle nostre fabbriche, silenzio ovunque, quasi a non voler disturbare la paura che ci attanaglia, silenzio di sorrisi, di strette di mano, di abbracci, nel silenzio ognuno mascherato, cammina speditamente, forse senza meta, nel silenzio i nostri morti se ne vanno, nel silenzio nascono i nostri bambini, nel silenzio i nostri vecchi se ne stanno custoditi lontano dagli affetti più cari, nel silenzio le nostre chiese celebrano i sacri riti, nel silenzio dormono i nostri fonti battesimali, i nostri confessionali, tutto sa di silenzio assordante, di vita mortificata, di storia senza penna, venerdì santo come non mai, anzi, sì, come allora, silenzio assordante nell'orto degli olivi, silenzio di un grido rivolto al cielo, padre, se è possibile, risposta piena di silenzio, abbandono silenzioso, padre, non la mia, ma la tua volontà sia fatta, il silenzio si interrompe e diventa grido angosciato, ma non disperato, signore, vieni, non tardare, mostraci il tuo volto, facci sentire la tua voce, noi vogliamo tornare a vivere per cantare la tua lode in mezzo ai fratelli e alle sorelle, vogliamo che il venerdì di quest'anno non sappia di morte, ma di vita, cantiamo quindi la vita accanto a Gesù, che muore per amore. Don Beniamino, della Parrocchia di Santo Spirito di Vittoria, Ragusa